... Dai nuovi fondi che verranno destinati a progetti che coinvolgeranno gli studenti, passando per la ristrutturazione degli edifici scolastici. Tante novità nel futuro delle scuole di Sarno. Ad annunciarle il sindaco Giuseppe Canfora. Buone nuove anche per la cittadella scolastica, respinto il ricorso contro la ditta giudicataria dell'appalto dei lavori nella cittadella di Viaticino. Noi abbiamo investito tantissimo in questi due anni sulle scuole e intendiamo ancora investire, tant'è che da un punto di vista lavori pubblici andremo a riqualificare alcune zone, alcune scuole. La Baccelli qui nel centro di Sarno e altri lavori li faremo a prolungamento Matteotti, altri lavori ancora li faremo nelle scuole di lavorate. Tutto ciò che c'è da fare lo faremo. Devo dire che l'ingegnere Casola, l'ingegnere del settore lavori pubblici, che da poco, da qualche mese, è caposettore nel comune di Sarno, ha fatto un sopralluogo attento su tutte le scuole, anzi ha trovato le scuole di Sarno in discrete condizioni, in buone condizioni, si è anche complimentato con questa amministrazione per tutto quello che è stato fatto. Quindi questo sotto gli aspetti lavori pubblici. Un'altra cosa importante è che come scuola aperta, molte scuole di Sarno, soprattutto le scuole medie, hanno aderito a quella pubblica manifestazione di interesse, bandita dalla regione Campania, in tre anni 50.000 euro annui, per tre anni 150.000 euro e anni che possono essere spesi in progetti di accoglienza per i ragazzi, ma possono anche essere spesi in progetti di pubblica utilità, sempre all'interno delle scuole. Quindi questa mi sembra una gran bella notizia. E poi l'ultima gran bella notizia è quella che riguarda la cittadella scolastica. Oramai è un'utopia che sembra fortunatamente chiudersi al meglio. Anzi, sicuramente, fortunatamente il Tarra ha respinto da parte di una delle ditte non aggiudicatarie che avevano fatto ricorso. Quindi la provincia nei prossimi giorni, anzi faremo una conferenza stampa insieme all'ingegnere Lizio, nei prossimi giorni passeremo alla sigla del contratto con la ditta che si è giudicato i lavori, per cui veramente rapidamente passeremo all'inizio dei lavori nell'area che è stata espropriata.